Se ci ragioniamo, non sappiamo chi cacchio siamo, da dove veniamo, perché esistiamo, chi è Dio? Dio è come noi, è un essere, c'ha carattere, c'ha progetti, c'ha potere, non è un credo Dio. Dio esiste. Sì, sto parlando di te, sta buono. No, perché ogni tanto lui si gira. Dio esiste, è un essere reale, ci ha fatto lui, questo corpo così sofisticato che ancora la nostra biologia, la medicina, lo studia e non ci ha capito una mazza. Dov'è la prova che la medicina non capisce il corpo? Non sa garantirci la salute, non sa fermare l'invecchiamento, non capisce la mazza della morte. Quindi questo corpo che la nostra intelligenza non riesce a capire, è ovvio che è il frutto di un'intelligenza superiore. Ci dicono quei cretini di laureati che è il brodo primordiale. Il brodo primordiale ce l'hai nella zucca. Tutto ciò che svolge una funzione, amici, una funzione, è il frutto di un progetto. Questo è vetro, silicio, fuso e poi gli viene data questa forma. Il silicio è uno degli elementi più comuni nel pianeta Terra. Sabbia del mare. Quanta sabbia di mare c'è? Miliardi e miliardi di tonnellate. Avete mai visto voi dopo un fuoco acceso che si sia formato per caso un bicchiere? Il bicchiere è stato creato perché deve svolgere questa funzione. Ruscello. L'uomo primitivo con la lancia va a caccia trovare prede per la famiglia. C'ha sete. Mi cerco un ruscello. Intanto lui osserva sempre perché deve beccare se c'è la preda o se c'è il leone che lo può divorare. Poi vede il ruscello. Cosa fa? Poggia la lancia e prende l'acqua. In quel momento passa il capriolo. Porco Giuda. Anzi Giuda non era ancora nato. E se l'è perso. Allora ha detto. Con una mano prendo l'acqua, con l'altra tengo la lancia. Svolge una funzione. Viene pensato da un'intelligenza. Non può nascere per caso una cosa che svolge una funzione. Non è mai esistito. Un bicchiere, un coltello, una forchetta. Non esistono in natura. Devono essere costruiti da un progettista intelligente. Quindi se la nostra intelligenza è di ordine inferiore alla complessità del corpo. Non è ovvio che sto corpo l'ha fatto uno molto più intelligente di noi? Perché il corpo svolge perfettamente la funzione di farci esprimere la creatività, l'intelligenza. Addirittura ci riproduciamo. Presa universale, pene e vagina. Da qualsiasi parte del mondo funziona. No, l'altro non serve per quello. Sta dietro. Non è a caso. Svolge una. Il corpo svolge perfettamente la funzione di esprimere la nostra creatività, i nostri sentimenti e di riprodurci. Generare altre macchine psicobiofisiche dove entrano altri cretini che stanno nel mondo dell'aldirà per fare una vita da scemi. Svolge una funzione, tutto perfettamente organizzato. Se due esseri umani si accoppiano, non viene fuori il bottiglione a un passeggino. Viene fuori un altro essere umano. Se quando si accoppiano esseri umani, vengono fuori dappertutto esseri umani, c'è una legge naturale all'opera e dove c'è una legge c'è un'intelligenza ordinatrice. Questo tablet funziona perché un'intelligenza di qualche scemo lo ha progettato e funziona per quello che deve fare. Quindi Dio esiste perché esistiamo noi. Se ci siamo noi c'è un'intelligenza. Voi chiamatelo Dio, Peppino, Alberto, Zutotò. Ma c'è un essere intelligente che aveva il potere di manifestare questi quattro scemi. Infatti pare che sia un po' pentito.